Al momento sono 35 le attività nel centro storico dell'Aquila, alcune ricollocate, tornate dopo il sisma, altre aperte ex novo. Sul commercio in centro, Confcommercio ha sempre avuto la sua idea, che giace però, ricordiamo il famoso studio realizzato anni fa, nei loro cassetti, ricorda Celso Cioni. Uno studio che sta nei cassetti del comune è chiuso e addirittura donammo un plastico che faceva capire come immaginavamo di recuperare e rientrare nel centro storico. Mentre il sindaco afferma che nel 2017 sarà completato l'asse centrale, i commercianti si augurano che sia proprio così, ma serve una unione di intenti, afferma Cioni. E a noi piacerebbe lanciare tramite la vostra emittente, che ringrazio tra l'altro per occuparsi dei problemi dei mille commercianti che sono stati espulsi dal centro storico. Noi proponiamo di formare un gruppo di lavoro tra amministrazioni pubbliche, proprietari e piccoli proprietari di locali nel centro storico, la nostra e le nostre associazioni di categorie. Il vero problema sono gli affitti per i commercianti nel centro e anche quello della tassazione. Molti in questi anni hanno chiuso. Di qui la proposta di Confcommercio. Dare possibilità a chi offre in locazione, a chi dà in locazione a un prezzo concordato, a un canone concordato, la possibilità di abbassare la tassazione locale per agevolare questo processo. Perché se non si trova una strategia per agevolare questo processo e modalità nuove rispetto a una situazione straordinaria, cioè avere ancora dei contratti come se stessimo a Milano, a Roma, a Trieste, certamente non ci aiuterà in questo processo.